bentornati ragazzi tutti quanti in questo mio nuovo video allora oggi sarà un video sulla mia collezione di anime giapponesi intanto colgo l'occasione per pubblicizzare un canale instagram a un canale di un mio amico un collezionista di anime giapponesi quindi se siete interessati alle anime giapponesi andate a vedere il suo profilo instagram si chiama josè rondelli è un gran collezionista ha un casino di roba e io spesso io e lui ci sentiamo e mi dà anche consigli su cosa comprare cosa non comprare visto che da qualche settimana mi sono rimesso a comprare qualcosa di anima giapponese non tanta roba ma qualcosina sto ricominciando a recuperare anche se lentamente lentamente qualcosa arriva andate a vedere il suo canale instagram veramente veramente molto bello andatevelo a vedere non ve ne pentirete un saluto a josè ciao josè cominciamo subito a vedere le mie vhs nel video precedente di anime ho fatto una grossa gaffa si tratta parlo di la mu praticamente nell'altro video ho detto che ero arrivato alla numero 14 invece come potete vedere non è vero perché in un altro scatolone ho trovato delle altre videocassette e quindi mi sembrava anche a me di essere arrivato alla numero 20 però dopo 20 anni capite anche voi mi potevo benissimo essere sbagliato dato che ho messo tutto quanto assieme si vede che in quello scatolone non ci stavano e le ho risposte in un altro scatolone dopo 20 anni ho detto boh mi sarò sbagliato invece non mi ero sbagliato per niente e come potete vedere ripartiamo dalla numero 15 di la mu come vi ho detto prima mi sento con questo ragazzo josè e lui mi parlava proprio di la mu in questi giorni e mi diceva che a breve saranno usciranno dei box con tutta la collezione di la mu edita la yamato video dovrebbe uscire a novembre il primo il primo box insomma lo attendiamo e lo attendiamo perché io comunque non ho la collezione completa io devo arrivare essere arrivato all'episodio numero ve 91 e quindi farò i quattro box anch'io della yamato video quindi questa numero 15 numero 16 anche queste sono tutte i amato video numero 17 anche queste videocassette costavano un botto se non erro ma se non erro venivano 29.900 lire l'una considerate 20 anni fa costavano un botto la numero 18 il mio personaggio preferito di la mu probabilmente sakurambo probabilmente sakurambo anzi sicuramente sakurambo questa è la numero 19 mi sono perso in chiacchiere e comunque l'avete visto anche da solo da soli spero si veda bene e questa è l'ultima videocassetta cassetta uscita distribuita da yamato video l'ultima videocassetta che è la numero 20 e come potete vedere ci fermiamo al 91esimo episodio quindi non siamo neanche a metà perfetto andiamo avanti con un movie edito da dynamic italia spriggan anche questo non vi so dire se si è uscito individui in blu ray non lo so abbiamo gal force questo come vedete fa è numerato perché è numerato perché i amato video feci uscire una serie che includeva tantissimi titoli quindi come ho detto anche tempo fa quindi ci poteva essere city hunter film di lamu c'erano presenti dei film di lamu qualche film di lupen insomma includeva svariati titoli in questa serie della yamato e questa faceva parte di essa quindi questa era la numero 24 magari in un prossimo video vi farò vedere tutte le altre ci saranno degli scatoloni dove saranno presente tutte le altre non le ho tutte perché qualche numero mi manca questo è il numero 2 gal force 2 magari facevano così il primo volume usciva con la serie della yamato numerata e poi dopo facevano il 2 il 3 il 4 i prosegui li facevano uscire in questa maniera qui quindi tu che avevi il primo numero nella serie di amato comunque dovevi andare a recuperare gli altri volumi che uscivano in questa maniera questo è il terzo di gal force infatti come vedete sono comunque tutto di amato poi passiamo un'edizione dynamic italia o da in it come preferite giant robot questo è stato una serie che mi ha stupito parecchio per la grafica innanzitutto parliamo parliamo comunque di vent'anni fa ma una grafica ha un disegno sto sto sta serie che veramente bellissimo io ve la consiglio molto non probabilmente penso sia uscita in dvd non so se in blu ray mi sembra di averla vista recuperatela se potete perché molto bella questo volume 2 mi ricordo che all'epoca avevo una mini televisione quindi mi mettevo sul mio letto avevo un letto castello in sta camerina piccolina e avevo la televisione proprio all'altezza degli occhi e questo è il volume 3 dicevo raccontavo prima che avevo sul letto castello in sta camerina piccolina e avevo la televisione proprio all'altezza degli occhi col mio bel videoregistratore camera invasa di queste vhs perché ne ho più di 600 quindi anche gli spazi erano quelli che erano quindi avevo riempito scrivania tutto quanto e mi mettevo lì la sera e mi guardavo tutte queste anime questo è il volume 4 e questa è una delle serie e una delle anime che mi è piaciuta di più continuiamo col volume 5 il volume 6 poi anche la serie e la trama è molto bella non faccio non faccio spoiler come al solito e questa è l'ultima è la numero c'è scritto proprio c'è scritto proprio ultimo episodio questa non è numerata quindi si passa dalla numero 6 a questa ultima videocassetta che è numerata solo qua 7 a differenza delle altre che mostravano il numero questa dice soltanto ultimo episodio recuperate allora continuiamo con dynamic italia dato che siamo qua che parliamo della dynamic e zambo 3 questo sicuramente è un anime che non ha bisogno di presentazione questo è uscito in DVD sicuro in blu-ray non lo so anche questo è uno dei classici robottoni anche se è uscito comunque parecchi anni dopo uno di quelli diciamo meno vecchi che mi piace ne sono usciti tantissimi ma ha cavato ma zing ma zing ma zing azetti insomma il gig robot goldrake cosa posso vedere dal tan il jet robot questo qui si va a posizionare subito dietro molto ben fatto quella è la numero 2 e questa è la numero 3 poi abbiamo la numero 4 anche questa serie abbastanza corta perché termina con la numero 5 e sono scusate stavo guardando gli episodi dietro sono 23 episodi non l'hanno tirata tanto per le lunghe come ho fatto con tanti altri robottoni ok passiamola alla manga video con metropolis questo è il volume 1 anche questa qui ragazzi come disegni è spaziale anche questa come disegno è spaziale se potete recuperarla individui fatelo numero 2 passiamo la numero 3 anche perché qua penso che ci sia un episodio ogni vhs infatti dice capitolo 3 gli episodi sono dove lo leggevo sono qua e sono di 40 minuti e questo è l'ultimo episodio episodio 4 la sfida finale perfetto andiamo avanti questa è una serie che ho visto da bambino era veramente un bambino quando uscì il mitico chiasciano il ragazzo androide cosa dire di questa serie la serie stupenda è una serie che è diventata cult una come dire una delle mie serie preferite perché comunque legata alla mia infanzia e mi ricordo che guardavo tutti gli episodi in televisione questo volume 2 e quindi quando mi sono messo a collezionare le prime serie che ho ricercato ovviamente erano quelle che avevo visto da bambino e volevo assolutamente avere tra la mia collezione volume 3 volume 4 volume 4 abbiamo il volume 5 il ragazzo diventato androide per combattere robot ha sacrificato la sua vita per trasparsi trasformare la sua padre in un robot e la numero 7 ogni tanto guardo di là perché voglio capire voglio decidere quale far vedere prima o dopo comunque si conclude chiasciano con 35 episodi la serie di chiasciano è di 35 episodi tutto edito sempre da yamato video altro robottone si parla di gotriniton non lo considero sicuramente alla pari di un zambo 3 sicuramente no è uno è un anime di robottoni insomma ci lascia guardare a chi piacciono i robottoni però insomma non ci sbavamo dire tra questa a questa a questa serie la vhs numero 2 la serie è edita da granata video che hai metto lì la vhs numero 3 l'interno andiamo a vederla classica vhs nera gotriniton numero 4 addirittura queste qui mi sembra di vedere siccome c'è un codice a bar davanti che era erano ex noleggio infatti vicino a casa mia c'era un video noleggio io conoscevo bene il proprietario perché bazziccavo sempre di lì e infatti questi sono ex noleggio numero 5 si vedono benissimo eh più che altro bisognerebbe avere il tempo di andarsi a riguardare tutti ma tra una cosa un'altra avrò 4 500 film da guardare lì da parte potete pensare tra il lavoro un cavolo un altro faccio fatica a guardare i film però chissà domani e questa è l'ultima videocassetta che è la numero 6 e quindi anche qui 26 episodi per gotriniton mi sposto un attimo ho fatto una mucchia poi abbiamo patlabor 2 the movie bellissima animazione per questo movie di patlabor edito da da manga video per me un filmone per me un filmone animazione pazzesca poi adesso abbiamo due anime giapponesi un po' spintarelli la prima è la materiologa insomma si vedono due tettine niente di più però insomma mi sembra che io addirittura lo da come vietato ai minori di 18 anni insomma un po' esagerati non fa vedere niente di che e mentre questo qui invece è un po' più hard diciamo bordella ma dietro se volete leggervi cosa c'è scritto rimango un attimo fermo ok insomma questo forse questo forse da considerarsi un po' più vietato anche se poi alla fine non fa vedere più più di tanto insomma poi continuiamo con Yamato con salamander per questa miniserie anche questa è edita da Yamato video sono tre volumi questo è il volume 1 anche qui sono un episodio per ogni VHS volume 2 e ultima volume 3 perfetto faccio un po' di posto perché adesso voglio mostrare due cofanetti che ho trovato in una fumetteria vicino al mio paese li ho trovati veramente a un prezzo ridicolo veramente se andate a vedere su ebay i prezzi cambiano io li ho trovati in sta fumetteria a un prezzo veramente bassissimo e vi parlo di Noein di Noein ovviamente ce ne sono state varie edizioni questa edizione qua è l'edizione ovviamente edita da Dainit Italia limitata e numerata in tiratura limitata a mille pezzi quindi andate su ebay e guardatevi cosa costa questo cofanetto io ci ho guardato va dai 90 euro no scusate dai 70 euro fino a arrivare a cifre più alte ma insomma non ci interessano la serie è composta da 24 episodi suddivisa in 6 DVD quindi 4 episodi per ogni disco adesso vi faccio vedere tutto il box perché veramente merita anche qui si parla di serie parallele non faccio spoiler come al solito il personaggio in Noein lo scoprirete verso la fine della serie scoprirete verso la fine non vi aspetterete non ve lo aspetterete sicuramente che sia che fosse questo personaggio qui perché è insomma è incomprensibile si vede svariate volte questo personaggio però si vede sotto forma di diciamo di fantasma questa ombra bianca che ha questa maschera e questo qui è il personaggio lui è lui è Noeina lui è Noeina e quindi si parla di queste e adesso non mi viene neanche più in mente di queste sono andato in caos sono andato in caos comunque adesso adesso quando mi viene in mente poi ve lo dico dimensioni parallele ecco si parla di queste dimensioni parallele e si parla di Shangri-La che forse qualcuno già conosce comunque il mostro DVD questo è il primo DVD questo è il secondo DVD io l'ho trovata già completa penso che uscissero il box col primo DVD sigillato e poi dopo bisognava comprare gli altri uno per uno e poi andavi a completare il tuo box scusate per prima ma delle volte ho dei propri dei voti di memoria incredibili questo numero quattro una serie questa qui recuperatela molto bella molto bella scorre via abbastanza velocemente poi un episodio dura una mezz'oretta quindi insomma ve lo ho pappato in un attimo anche se io solitamente non ne guardo tantissime alla volta perché poi mi stanco se guardo se me ne guardo 12 13 è capitato eh di guardare questo è il numero 6 intanto che parlo mi è capitato di guardare 12 13 episodi a fila ma poi cosa succede? che il giorno dopo non la guardo non la guardo perché ho fatto il pieno quel giorno lì e poi dopo il giorno dopo non ho voglia di guardarlo magari neanche il giorno dopo ancora e quindi preferisco magari guardarne che ne so 2-3 episodi alternarli magari con qualche film nel mezzo e poi dopo ricomincio a riguardarla vado avanti comunque insomma nel giro di una settimana le 10 giorni l'ho guardata tutta quindi però io sono fatto così 4-3 4 episodi e poi dopo devo staccare e passare un'altra cosa perché mi stufo adesso un altro cofanetto sempre edito da Dainit Italia e anche questo in tiratura limitata a mille coppie e si tratta di Ordian sicuramente qualcuno lo conoscerà io quando ho visto quando ho trovato il cofanetto non lo conoscevo mi sono fatto un po' consigliare e devo dire che perché la serie mi è piaciuta tanto all'inizio non si capisce bene però mano a mano che vai avanti insomma ti danno tutte le informazioni utili per capire dove vuole andare a parare il significato di questa serie e deve arrivare come vedete anche qui è composta deve arrivare al quarto DVD quando arrivate al quarto DVD cominciate a capire tante cose che prima non capirete ma tranquilli dal quarto vi verranno spiegate tante cose e vedrete che la serie vi si aprirà un mondo vi si aprirà molte cose che prima non capite dal di qua iniziate a aprire bene gli occhi dire oh cavolo comunque anche questa serie qui è composta da è composta da 24 episodi suddivisi in 6 DVD quindi sono presenti 4 episodi in ogni DVD adesso andiamo a vedere i DVD anche questa serie questa serie qui invece parla di esperimenti sul corpo umano insomma e quindi dopo vengono perfezionati questi robot praticamente sono collegati al al cervello del pilota insomma non sto a fare tanti spoiler guardatevelo anche qui come ho detto prima questo è il primo DVD come ho detto prima molte cose le capirete veramente dal quarto DVD perché fino all'episodio 16 ci saranno dei buchi enormi di trama che varranno colmati con quell'episodio lì questo è il volume 2 volume 3 volume 4 e oltre a colmare i buchi di trama dal quarto DVD e la serie diventerà molto ma molto più bella numero 5 e ultimo DVD numero 6 andiamo a riporli tutti quanti nel box anche questo anche questo box usciva con il primo e il box e poi dopo ti dovevi comprare gli altri DVD comunque per completare i box un'informazione questi sono questi box sono stati editati da Dainit Italia nel 2006 questo grazie alle informazioni datemi da Jose quindi sono tutte edizioni del 2006 anche questo questo qui ha dei prezzi un po' inferiori a Noeina Noeina costa di più però questo si riesce a trovare a un prezzo a un prezzo inferiore ma comunque non di certo quello che l'ho pagato io perché l'ho pagato veramente una sassata e ragazzi con questo io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto e adesso prossimamente andrò avanti anche con la mia collezione di Blu-Ray e poi vediamo ho parecchie idee su video da fare però ancora non ho deciso quale sarà il prossimo video con questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao